Allora, Beth, sta andando sempre bene con Luca, vero? Oh, sì, con lei tutto bene, ma con Clara no, va male. Perché ti manda messaggi cattivi o delle frecciatine su Instagram? No, niente di tutto ciò, niente frecciatine, a scuola mi ignora, non mi ha più detto niente, non mi guarda male quando sono con Luca, però su WhatsApp mi ha bloccato. Ah, beh, almeno quello è normale. Beh, ma meglio, no? Almeno non hai preoccupazioni né fastidi. Sì, però mi fa capire che proprio non ci teneva per niente la mia amicizia, mi sfruttava e mi dà molto fastidio. Insomma, siamo state amiche per molto tempo, mi ha sfruttato per tutti questi anni. Vabbè, non ci pensare, adesso hai me e Luca. Oh, in verità adesso ho fatto amicizia con Gwen. E chi sarebbe? Non l'ho mai sentita. E una nuova è arrivata da poco. L'ho conosciuta venerdì e simpatica. Ah, allora magari me la presenti così ci faccio amicizia anch'io. Sì, ma non ti dispiace che è la cugina di Clara, vero? Eh? Perché stai con sua cugina? Sei impazzita? Beh, cosa c'è di male? Anch'io all'inizio dubitavo, ma si è dimostrata molto gentile e dice che non va d'accordo con sua cugina. Infatti è diversa, è simpatica, era da sola, dai, ci troviamo bene insieme. Io non ho più un'amica, cioè, sto con Luca che siamo amici, però non ho un'amica. Sì, sto con te, ma sei mia sorella. Hai un'intera scuola con cui fare amicizia proprio con lei, devi andare a stare. Dai, è una brava ragazza, non ti preoccupare. Adesso andiamo a scuola e se vuoi te la presento. Va bene, andiamo. Oh, in effetti faremo tardi. Dopo a scuola? Eccoci qui. Eccoli là. Oh no, ma dovrò passare davanti a Clara. Non mi va, puoi andare prima tu? Certo, vado prima io, vieni. Non guardarla, mostra sicurezza. Ok. Visto, bastava stare tranquilli e dimostrare sicurezza. Sì, in effetti non mi ha detto niente, non mi ha neanche guardata, boh, non ci ho fatto caso. Ehi, ciao, Beth. Oh, ciao Luca, scusa, stavo parlando con Bridget, niente. Come va? Tutto bene? Peccato che in questo weekend non ci siamo potuti vedere. Sì, anche a me è dispiaciuto, ma sai, avevo molto da studiare, sai com'è questo periodo. Sì, ma anch'io dovevo studiare tanto, tranquilla. Tu sei la sorella di Beth, giusto? Sì, sono io. Piacere, non ci siamo mai presentati ufficialmente. Sono Bridget. Io sono Luca, ma credo che Beth ti abbia parlato di me. Eh, sì, infatti. Ehi, ciao, Beth. Non avevo visto che è arrivata. Come va? Così è questa. Ehi, ciao. Ciao anche a te, Luca. Ciao, tu sei Gwen, giusto? Beth mi ha un po' parlato di te. Sei la cugina di Clara, vero? Sì, non ti dà fastidio, vero? Perché quando sanno che sono la sua cugina la gente non vuole stare con me. Oh no, tranquilla, io non pregiudico le persone solo in base a quello che mi dicono. Prima la voglio conoscere la persona. Ah, ok. Questo ti fa onore. Tu invece sei un'amica di Beth? No, sono sua sorella Bridget. Piacere. Ah, piacere di conoscerti. Io sono Gwen. Vabbè, l'ho appena detto, ma mi ripresento. Ora però dovremmo andare in classe. Non vorrei fare tardi. Sì, è vero. Andiamo. Eh, voi andate. Devo solo dire una cosa a Beth. Ok. Ti vediamo dopo. Allora, cosa ne pensi? Penso che è fantastica. Hai visto che stile? Wow, non solo è simpatica, ma anche uno stile simile al mio. Non ti dispiace se ogni tanto esco con voi? Oh no, certo che no. Più stiamo è meglio, eh. Grazie, sei la sorella migliore del mondo. Ora però andiamo. Non vorrei fare tardi. Sì, andiamo. Dovremmo anche andare noi, Giulia. Non possiamo fare tardi. Sì, va bene. Andiamo, anche se non ne ho per niente voglia. Andiamo. Bene, bene. Procedi tutto secondo i piani. Beth sta con mia cugina. Bene, bene. E vabbè, sì. Beth e Luca sono amici. Il mio piano funzionerà. E Luca sarà mio. E la povera Beth ne uscirà distrutta. E la vendetta perfetta. Sì! Così impara a rubarmi il ragazzo e mentirmi. Vado in classe. Allora, Gwen, ti è piaciuto quell'episodio? Oh sì, mi piace molto la parte in cui arriva Alastore. È davvero fantastica. Dimmi un po', ti piacciono gli anime? Sì, li adoro. Qual è il tuo preferito? Sono contenta che vado non d'accordo. Meno male. Ok, che finisce Bridget a Gwen non era nei piani, ma non credo sia un problema. Va ancora tutto liscio. Ehi ragazzo, là in fondo, fate il silenzio. Sto cercando di spiegare. Ci scusi, prof. Sa che sono appena arrivata e Bridget mi stava un po' spiegando il programma. Ah, ok. Ma fate più piano. O magari l'ho fatto in un altro momento. Io devo spiegare. Ah ah, se l'è bevuta. Dai, possiamo continuare a parlare. Però sì, guardiamo più piano. Oh, che idea. Comunque il mio preferito è One Piece. Anche il mio. L'episodio finisce qui. E questa è la serie di LOL Broadway con le LOL piccole. Che se le riconoscete. E vabbè, lei l'ho fatta così perché ha una tipo di coda. Però non sapevo come farla diversamente. Iscrivetevi al canale. Lasciate like al video. E attivate la campanella. Ci vediamo in un prossimo episodio. Ditemi se li ho fatti bene. E in confronto di l'olio li ho proprio copiati. Ho fatto anche gli occhi dello stesso colore. Ciao! Ciao!